Benvenuti, siamo con il professor Dario Ianes, già docente ordinario di pedagogia e didattica dell'inclusione all'Università di Pozzano, corso di laurea in scienza e la formazione primaria, cofondatore del Centro Studi Ericsson di Trento, per il quale cura alcune collane, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista Dida. Benvenuto professore. Grazie, grazie dell'invito. Professor Ianes, per una corretta educazione emozionale possiamo dire che il punto di partenza è l'ascolto, ma cosa vuol dire ascoltare dal punto di vista emozionale? Allora, beh, il tema, insomma, hai toccato un tema di questi giorni, ma non solo di questi giorni, diciamo sempre di più di attualità. Cosa vuol dire questo percorso di educazione emozionale? Vuol dire innanzitutto affrontare questo tema, molto spesso nella scuola questo tema non è affrontato, un po' per disagio degli stessi insegnanti, per un certo grado di resistenza anche da parte delle famiglie che pensano che magari attraverso l'educazione emozionale si faccia qualcosa anche di legato all'affettività piuttosto che alla sessualità, per cui c'è un po' di tensione in alcune famiglie rispetto a questo. Ma stando sul piano proprio dell'educazione alle emozioni, a una corretta gestione delle emozioni, in grici si parte dall'ascolto. Sicuramente si parte dall'ascolto di sé, prima di tutto, nel senso che noi dobbiamo come primo passo imparare ad ascoltare le nostre emozioni, capirle, decodificarle, dare un nome. Un grande conoscitore di questi aspetti, Alberto Pellai, insiste molto su questo, su non riuscire ad avere le parole per nominare gli stati affettivi che viviamo, che siano emozioni di base molto profonde come la paura, la rabbia, eccetera, oppure anche stati d'animo più leggeri, chiamiamoli così, come la gelosia, l'ansia, piuttosto che l'invidia, diciamo, di altri. Beh, queste dobbiamo riuscire, prima di tutto, a dar nome, a conoscerle e poi a riconoscerle in noi, negli altri. Qui l'ascolto, come dicevi, fondamentale, ascoltare di se stessi, ascoltare l'altro in termini di empatia e poi imparare a esprimere, imparare ad esprimere, cioè farle uscire, non tenerle dentro, farle uscire, comunicarle, negoziarle con le altre persone, condividerle e in questa maniera le regoliamo anche perché un'emozione che non è condivisa, che non è espressa, cioè si gonfia, diventa troppo forte per essere gestita e poi ci porta magari a dei comportamenti anche, come abbiamo visto purtroppo dalla cronaca, molto drammatici. Per cui la conoscenza, l'espressione, la regolazione, questi sono gli elementi fondamentali di un'educazione emozionale. Ecco, colgo dalle sue parole un aspetto, perché lei ha parlato di imparare innanzitutto ad ascoltare da se stessi, quindi traslarla nella scuola l'educazione emozionale, deve partire dalla formazione dei docenti e come nasce, come si struttura una formazione che poi non può essere semplificata con la sola ora di educazione emozionale, perché le emozioni interagiscono in ogni momento della nostra vita e quindi anche durante le ore di lezione. Come far capire che non è un'ora in più, ma è un vissuto totale, quotidiano e costante? Non è un'ora in più, ma è un ingrediente in più, nel senso che dentro tutta l'attività, fin da quando arrivi a scuola, fin da quando ne esci, tutte le varie attività, sia quelle formali di apprendimento, quelle informali, le pause, eccetera, lì il vissuto emozionale è particolarmente ricco, particolarmente ricco e si tinge, diciamo, di tanti colori, da quelli della gioia, purtroppo raramente, diciamo, delle cose belle che riusciamo a fare, all'ansia piuttosto che agli elementi tipo depressivo, se fallisco vado male in alcune cose. Ecco, allora lì il docente, tutti i docenti hanno una grande possibilità di stare dentro queste onde emotive, stare dentro cercando di, appunto, ascoltarle, coglierle, vederle, aiutare a dar nomi, aiutare a capire cosa c'è dietro una certa emozione, cosa c'è dietro un certo vissuto, un ragazzino che arriva triste la mattina a scuola, oppure che si intristisce troppo per un brutto voto, piuttosto che per un fallimento, ad un'interrogazione, ad una verifica. Ecco, sapere e essere confidenti, essere tranquilli, diciamo che stare dentro i vissuti emotivi delle persone, cioè ascoltarli, dar nome, aiutarli a sviluppare, questo è un grandissimo investimento per la vita, per il futuro di queste persone. Alle studentesse di scienza della formazione primaria e a cui rari studenti che c'erano, io ricordavo sempre loro che sono in grado, come insegnanti di primaria e anche dell'infanzia, di riuscire a costruire delle competenze socioemotive nei maschi che consentiranno loro di non aggredire, di non avere una relazione emotivamente sregolata con le loro compagne, quando magari le loro compagne li mollano o li lasciano all'interno di una relazione che finisce senza scatenare nel maschio una serie di reazioni emozionali talmente esagerate che portano poi addirittura a comportamenti assolutamente criminali. E questo è il compito della scuola, ma non tanto in termini, come dicevi, formali. C'è un'ora in cui magari arriva lo psicologo di turno e spiega come fare. Ma proprio lo psicologo ci può spiegare a tutti noi docenti cosa fare, ci può spiegare che tipo di meccanismi spesso stanno dentro le emozioni, come disattivarli, come renderli noti ai bambini e alle bambine, cioè riuscire a dare a noi gli strumenti per presidiare questa cosa e farlo durante un po' tutte le attività. Spalmato è come un ingrediente che metti all'interno di tutti i piatti che si cucinano durante la giornata. Ecco, abbiamo parlato anche di formazione, quindi a questo punto li chiedo che per creare una formazione efficace sarebbe opportuno partire con un approccio ebbe, ovvero basato sulle evidenze scientifiche. Lei recentemente ha affermato che servirebbe serietà scientifica ed empatia democratica. Ci dice come si dovrebbe procedere? Ormai in ambito psicologico e pedagogico ci sono tantissimi studi che dimostrano come alcuni approcci siano ormai fondati sull'evidenza, cioè abbiano dei dati a supporto che ci dicono guarda, fare un intervento di educazione socioemotiva fatto in questo modo funziona, bisogna però avere un tot di tempo, un tot di modalità, un tot di materiali. Ecco, questo è il dato dell'evidenza. Letteratura ormai ce n'è molta perché non si può più dire oddio come facciamo, non sappiamo come fare. Perché in questi approcci sto pensando uno per tutti, l'educazione cosiddetta razionale emotiva. Quando tu impari che le tue emozioni, sì, vengono dall'evento che stai vivendo, ma vengono anche dall'interpretazione che tu dai dell'evento, cioè che tipo di schema mentale, che tipo di aspettativa hai, che tipo di pensieri più o meno razionali fai su questo evento. Per cui questo tipo di approccio, un approccio che ormai ha dimostrato la sua validità, la sua efficacia, questo può diventare, accanto ad altri, non è chiaramente l'unico, ma può diventare un punto di riferimento per la formazione. Allora io docente, imparo questa cosa, poi la metto pian pianino in moto dentro le situazioni che vivo con i miei studenti, con le mie studentesse. Naturalmente qui non posso essere da solo, ho bisogno intanto di confrontarmi, sia con i miei colleghi che con qualche supervisore, qualche persona che mi accompagna poi in questo, perché ovviamente non è un percorso facile, perché ci mette a confronto, tra l'altro, anche noi docenti con le nostre emozioni, con i nostri vissuti. Per cui non è affatto banale, non è più complesso, psicologicamente è più complesso, che non insegnare storia, geografia, piuttosto che inglese. rispetto all'empatia democratica, come la citavi tu, c'è da un lato, c'è come dire, un sapere freddo, chiamiamolo così, che è basato su dei dati, su dei riscontri, obiettivi di efficacia di alcuni approcci. Dall'altro lato però bisogna avere un altro atteggiamento, più caldo, se vogliamo, più umano, appunto più empatico, io lo chiamo un'empatia di capacità di mettersi un po' nei panni dei ragazzi e delle ragazze, ascoltarli, mettersi democraticamente sullo stesso piano, diciamo, sullo stesso piano di ascolto, di condivisione di alcune difficoltà. Tante volte sentiamo i ragazzi che dicono, ma non ci ascoltano, non vale la pena fare niente di partecipativo a scuola, coinvolgerli, ma no, non serve, non serve a niente. Ecco, questa sfiducia nell'ascolto empatico e nella partecipazione democratica penso sia assolutamente negativa. Per cui, da un lato, i saperi, diciamo, che la psicologia ci dice guarda che certi approcci funzionano più di altri e dall'altro lato appunto questo mettersi in gioco, in ascolto, in condivisione con chi vive direttamente la sofferenza, piuttosto che degli stati emotivi che li possono portare effettivamente anche a un grande disagio e sappiamo che dopo la pandemia questi disagi sono assolutamente aumentati. Ecco, parlavamo di formazione e un qualcosa legato alla formazione e alla valutazione. Nella scuola la valutazione è un aspetto importante e attualmente è anche al centro di un forte dibattito. Ma come possiamo estendere la valutazione dagli ambiti cognitivi a quegli emotivi? Allora, per fare una valutazione emotiva, diciamo, fare una valutazione formativa, emotiva, non certo fare l'interrogazione sulle emozioni o il tema o la verifica sulle emozioni. A me piace molto un approccio che invito tutti a conoscere e a seguire, che è il teatro dell'oppresso. Nel teatro dell'oppresso tu metti in gioco i ragazzi e le ragazze attraverso delle simulazioni, delle scene, dei percorsi, diciamo, di eventi di vita quotidiana che accadono e li coinvolgi proponendo loro di agire dentro nella situazione e agire chiaramente in situazioni che sono stressanti, tipo un compagno ti attacca o ti ruba una cosa oppure il professore si comporta in maniera ingiusta, allora tu cerchi di andare a rimediare questo, cioè ti metti in gioco, diciamo, direttamente in questo role play, in questo teatro, diciamo, in cui giochi delle parti e dentro lì possiamo esercitare, che è un luogo protetto, diciamo, una situazione protetta, una simulazione, possiamo giocare tutta una serie di possibilità di dare dei suggerimenti, dare delle valutazioni, dare dei feedback, dare dei modelli e mettere in gioco direttamente questi vissuti, questi comportamenti socio-emotivi. Lì hai una splendida possibilità di esercitarsi, perché su queste componenti, su queste competenze, dobbiamo esercitarci, nessuno nasce imparato su questo, per cui bisogna continuare ad esercitarli tutta la vita. Tutti noi, insomma, siamo in difficoltà in alcune situazioni, per cui questo modo di drammatizzarlo, in senso di metterlo in scena e dentro lì darsi feedback, darsi le valutazioni, di dire sì, ottima cosa, hai fatto benissimo a dire questo o a sentire questo o a decine in questo modo, allora lì si forma la competenza, proprio sul campo. Ecco, chiudiamo un'ultima domanda, Alessandro, in ambito valutativo. Le chiedo, come si può passare da una valutazione vista come sentenza ad una valutazione che sia motivante, che stimoli a migliorarsi? Guarda, proprio il gioco tra sentenza e valutazione formativa è interessante. Spesso con i docenti io chiedo, ma voi siete giudici o coach? Siete giudici o allenatori? Perché il giudice appunto ti aspetta al VAR, con la sentenza e ti giudica appunto. Il coach si affianca a te, il coach ti aiuta, il coach ti spinge, il coach vuole il tuo successo perché il tuo successo di atletico di quadra è anche il suo successo. Per cui il coach è dalla mia parte, l'allenatore, il mister è dalla mia parte, non è la parte avversa che io cerco in qualche maniera di fregare. Cioè è dalla mia parte e attraverso questa postura, la postura dell'essere dalla parte dello studente e allora avremmo superato anche tutto il tema dei voti piuttosto che di quei drammi diciamo che accompagnano al discorso poi della valutazione sommativa, rigida, meccanica, numerica, eccetera. invece entreremo in una logica che io docente sono dalla tua parte perché voglio che tu dia il massimo perché se tu dai il massimo io ho successo, ho successo, per cui mi metto dalla tua parte e uso la valutazione formativa, cioè il feedback, ti accompagno, ti suggerisco delle cose, ti creo una competenza. La stessa cosa che fa l'allenatore, il mister di calcio si pone dalla parte dei calciatori, li stimola, li valuta ovviamente, li sprona, li fa anche soffrire, però ne hanno la massima considerazione, ne hanno la massima devozione in alcuni casi perché sanno che non è il loro giudice ma è il loro allenatore dalla loro parte, dalla loro parte. Allora è chiaro che questo tipo di valutazione formativa che accompagna eccetera è estremamente più complessa, è estremamente più onerosa, è estremamente più faticosa, la cosa più semplice è spiego, 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 track, verifica, voto, chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, fine. Questo però non è un qualcosa che funziona di fatto perché ormai c'è tanta ricerca pedagogica ma tanta anche esperienza che dice che questo tipo di sistema di valutazione sommativa ovviamente non è quello che produce risultati migliori perché se noi vogliamo risultati migliori per i nostri studenti e studentesse dobbiamo come dire rimbocarci le maniche e avere un atteggiamento da coach e da allenatore piuttosto che da giudice. grazie grazie a voi in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti